Grazie. Ah, che caro. No, no, è buono. Vi legge di... Vi legge di... Ciao. Allora, bo, camminare. No, 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 camminare una nuova. Eh, fai qui. Ang, mi sona una nua di in spectacl quello. No, no, no. Allora, e lo sono. No, è la carne e il 맡ano. Guardate questo minuto. Credo comunque.